In questi giorni infiammano le polemiche sul decreto Caivano. È giusto? Non è giusto? È opportuno? Non è opportuno? Basta? Non basta. C'è l'intervento della garante per l'infanzia e per l'adolescenza, Carla Gallatti, che ha detto in maniera chiara che l'Italia deve mettere i diritti dei bambini e dei ragazzi al centro delle politiche pubbliche. Una posizione che mi sono sentito di assumere da tantissimo tempo perché ha ragione quando dice che bisogna farla in maniera strutturale, con una programmazione adeguata, non bisogna rincorrere le emergenze, non bisogna trasformare tutto in un terreno di scontro tra schieramenti politici. Ha ragione totalmente su questo. Condividiamo questa posizione che è la posizione delle posizioni, ma bisogna capire anche come, indipendentemente dai fatti di cronaca che ci restituiscono un'emergenza educativa a costanza, una crisi dell'educazione, una mancanza di responsabilità, bisogna capire come gli adulti possano costruire un futuro diverso per i loro figli. Andare oltre il decreto caivano, cercare di strutturare davvero qualcosa che sia un impianto che funzioni e che metta veramente al centro bambini e adolescenti.